Associazioni ambientaliste con in testa lega ambiente contrarie alla realizzazione delle casse di espansione ai laghi Primavera nella zona ovest di Pistoia. Una spesa eccessiva secondo gli ambientalisti nonostante si sia passati dai 32 milioni originari ai 16 dell'attuale progetto, ma soprattutto un'opera ritenuta inutile ai fini della messa in sicurezza idraulica della zona, che creerebbe invece tanti inconvenienti agli abitanti, sempre secondo i comitati. A nostro avviso non sono necessarie, perché per quanto ci riguarda quelle casse di espansione già fatte in salita a suo tempo, insomma ci furono delle critiche feroci per questo, non mette in sicurezza e non si prefigge quello che è il problema della piana di Quadrata. Probabilmente mettere in sicurezza l'ospedale, ma non è detto neanche questo, perché il fulcro secondo me di questa cosa è proprio la messa in sicurezza dell'ospedale fatto laddove potevano essere fatte le asse di espansione, perché insomma il bacino naturale era quello. Sì, come diceva Antonio, la questione è che è un intervento di per sé insensato. La criticità della struttura in sé è ovviamente che è enormemente impattante e va a colpire una parte importante del territorio pistoiese. Dal punto di vista tecnico, le cose che più invece sono particolari è che nel progetto stesso è scritto che gli argini dell'ombrone sono fragili, non è una suggestione ambientalista, c'è scritto nel progetto. E allora perché questi soldi non si spendono nella messa in sicurezza degli argini? Insomma, sembra assurdo fare una cassa di espansione quando c'è il rischio che si rompano gli argini a monte e non serva a niente.